eccolo qui è un grande scalatore questi sono i primi due c'è un gruppetto di sette atleti dove ci sono i migliori eccolo qui e quei due primi si sono definati dal gruppo degli inseguiti ancora qui i due fuggitivi molto probabilmente hanno una marcia in più ecco i due battagliano probabilmente questo con la maglia bianca non lo conosco ma sarà uno scalatore di quei furi eccoli qui tutte e due perché quello con la maglia bianca abbia una marcia in più almeno credo avranno 500 metri dei primi immediati inseguitori adesso l'è partito è partito è andato a una marcia in più l'avremmo notato quasi subito una marcia in più non so come si chiami e neanche da dove venga molto probabilmente un grande scalatore somiglia un po' allo stile di maglia e e e